Bene, allora siamo alla dichiarazione del voto, la Cueva Piazza Affari e la S Frittolese, iniziamo allora. Un bel 9, com'è la maglia? Quindi, meno male non portavi il numero 1, dice lui, se no era peggio. Invece il voto per la Cueva, per il comportamento? 9 anch'io, 8 più 1. 8 più 1, eh. Perché non porta, quindi è un puntiere più 8. Perfetto, bene, grazie ragazzi così, complimenti.